per me la ripresa destra è questa dimenticare le cose, quello che ci è stato detto perché sentiamo ma non abbiamo ascoltato e poi io appunto io che dico ma Paolotto ti ho già spiegato il gioco che dobbiamo fare per i bambini è la dimostrazione che dobbiamo fare, vabbè il gioco che dobbiamo fare per i bambini quindi ti avevo già spiegato oh sì ricordo ti ho già spiegato, è il gioco che dobbiamo fare con i bambini che dovete fare tu e Mimì ci sei? oh sì stai registrando già eh verso, verso di, ok verso mi sottame guarda mi sottina bo, ok non puoi e oggi ora come si è tolta la fascia? come si è tolta la fascia? ma quando? è tolta la fascia dalla mezz'ora vedi quanto lo sceglie perchè? sono lì che devo stare da cupoli si ok, prima io devo girare per il gioco di Venezia giro, 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 giro e ha detto che oh, oh, oh come è venuto? no, no, cancela adesso